Fare un giro in gondola a Venezia è il sogno di molti. Il prezzo si aggira tra gli 80 e i 100 euro, ma si sente spesso parlare della possibilità di fare un giro a 2 euro. Ma di cosa si tratta? Come funziona? È una gondola traghetto che serve per attraversare il canal grande nei punti in cui non ci sono punti. È più grande della gondola tradizionale. Il tragitto dura pochissimi minuti, parte solo in alcuni punti che trovi nella descrizione del video. Non c'entra nulla con il tradizionale giro in gondola, ma è comunque un modo carino ed ecologico per attraversare il canal grande.